Per chi avesse in programma di avviare un'impresa, c'è tempo fino al 16 gennaio per richiedere l'erogazione di prestiti da 5.000 a 25.000 euro da restituire in 5 anni a tasso zero. La possibilità è offerta dal Fondo Microcredito della Regione Campania, che ha stanziato 70 milioni di euro per favorire l'inclusione sociale e occupazionale delle categorie più deboli. Attraverso l'assessorato al lavoro e attività produttive, il Comune di Napoli ha promosso una serie di iniziative per informare sulla pubblicazione del bando e fornire un servizio di orientamento ed accompagnamento per la presentazione delle domande. A questo scopo è stata attivata la casella postale microcreditochiocciolacomune.napoli.it, attraverso la quale si potrà richiedere anche un appuntamento con gli esperti messi a disposizione dall'Ordine dei commercialisti, che forniranno a titolo gratuito consulenza e assistenza nell'accesso al finanziamento. Le domande di partecipazione al bando vanno presentate esclusivamente online, dal 16 dicembre e per un mese all'indirizzo e-mail in sovraimpressione.